ciao a tutti oggi prepareremo la pasta risottata ricotta e pancetta il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono ricotta zafferano pancetta a cubetti pasta corta olio evo sale pepe noce moscata e acqua diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la pancetta e l'olio facciamo insaporire per 4 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere l'acqua e portare ad ebollizione per 7 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere la pasta il sale il pepe la noce moscata e lo zafferano e cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 11 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungiamo la ricotta amalgamiamo un po' con la spatola ed azioniamo il bimbi per due minuti 100 gradi anti orario velocità soft la pasta è pronta andiamo a impiattare pasta risottata ricotta e pancetta grazie e alla prossima ricetta grazie Grazie a tutti.